Dopo un vano tentativo di sostenere Felice Casson, naufragato per mancanza di disponibilità della coalizione di centro-sinistra, gli ambientalisti di Venezia Cambia decidono di presentarsi alle elezioni con una propria lista e un proprio candidato sindaco, Gian Pietro Pizzo. Purtroppo abbiamo dovuto registrare, perché questo ci è stato comunicato nei giorni scorsi, un vetto vero e proprio da parte degli altri partiti della coalizione, che probabilmente ci temono. Hanno paura del fatto che questo percorso di cambiamento, le nostre proposte di autentico cambiamento, non siano poi in linea con quelli che sono gli interessi e gli equilibri interni. Secondo gli aderenti alla nuova formazione politica, il rischio è quello che in seguito a un'eventuale vittoria di Casson, nulla cambi davvero e tutto torni come prima. Tra le crociate che i militanti intendono condurre è quella contro la seconda pista dell'aeroporto Marco Polo. Abbiamo realizzato nei giorni scorsi un'assemblea a Campalto molto partecipata, in cui abbiamo discusso con i cittadini su quali sono i rischi oggettivi del raddoppio previsto nel piano di sviluppo SAVE, rischi di natura ambientale sul piano della contaminazione dell'aria, acustico, eccetera, e dell'arroganza del signore Enrico Marchi, che è l'unica cosa che ha saputo proporre rispetto ai suoi piani di sviluppo, è dire che casomai sposteremo le persone in altre zone. Non siamo nell'Africa coloniale agli anni 30 in cui si trattano le persone così.